Il condominio è una convivenza ovviamente tra virgolette forzata di più persone con diverse abitudini, diverse educazioni, diverse mentalità, quindi non è facile far convivere più persone all'interno dello stesso stabile, diciamo pacificamente. Si sa, la vita in condominio non è mai stata semplice, vicini molesti, cani che abbagliano in continuazione, mancheliti per la ripartizione delle spese condominali. Sono molte varie le problematiche che si registrano all'interno dei condomini ed è proprio per venire incontro ai cittadini interessati a capire come muoversi che è nato ad Arezzo lo sportello condominio, il primo a livello nazionale. Nasce dalla collaborazione tra Anaci che rappresenta l'associazione a livello nazionale di amministratori condominali e Confcommercio per cercare di dare risposte a eventuali cittadini che hanno problematiche con il proprio amministratore oppure anche con questioni condominali magari difficili da risolvere. Il primo mercoledì di ogni mese i professionisti iscritti al neonato coordinamento provinciale degli amministratori condominali saranno a turno a disposizione dei cittadini. Presso la sede Confcommercio possono prendere appuntamento qui telefonando e verrà data regolare appuntamento in modo da poi dare la possibilità a noi di organizzare la mattinata. Quali sono le domande più frequenti o comunque le problematiche più frequentemente riscontrate? Le più frequenti sono la ripartizione delle spese o dei lavori, come ripartirli. Per esempio stamani è venuto un signore che chiedeva come deve essere ripartito la spesa di un rifacimento di una terrazza e cose così.